20 febbraio 1979 Muore a Trieste Nereo Rocco, calciatore e allenatore, entrato nella storia del calcio per aver introdotto in Italia il catenaccio, un modulo tattico ostinatamente difensivo. Noto per il suo carattere burbero, severo, spesso scorbutico e per l'abitudine ad esprimersi nella sua colorita parlata triestina, Rocco diviene subito un personaggio nel mondo calcistico del dopoguerra e si guadagna il soprannome di El Paron, il padrone. Nel 1992 Trieste gli dedicherà il nuovo stadio. Rocco è figlio di El Paron.